Bella a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video tutorial Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui ritornati con le sfide di salire per 5 volte in 5 secondi Ragazzi, questa volta la sfida non sarà semplice Molto impegnativa questa sfida di questa settimana Anche se vi devo dire la verità è anche un bel po' buggata Perché non sempre la conterà come sfida Comunque ragazzi, create ciò che ho appena creato io Io mi trovo in lista squadra dove i mazze ve li regalano Ma voi li potete fare anche alle altre modalità Vi consiglio di scattare e subito dopo saltare Allora, proviamo insieme 1, 1, 2, 3, 4 e 5 Cioè, in teoria questo è come va il tempo dei 5 secondi classici Ma la sfida non ce l'ha contata E questa volta io posso dire tranquillamente che la sfida è buggata Però è possibile da completare questa sfida È molto molto difficile perché secondo me è buggata ragazzi Perché ora possiamo riprovare a contare questi 5 secondi E vediamo se ci riusciamo 1, 2, 3, 4, 5 Cioè, ragazzi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anche di più ne ho fatti E come potete vedere la sfida non ce l'ha contata Possiamo riprovare Ma come vi ripeto Il mio consiglio A parte i piccoli bimbi che si mettono davanti Ragazzi, il mio consiglio è proprio questo Su come completare la sfida Vedete se a voi conta questa sfida A me non la conta Non capisco il perché Però io non credo di giocare male In tal caso fatemi sapere nei commenti Se qualcuno è riuscito a trovare il metodo Per come completare questa sfida Ragazzi, questo è il mio consiglio Che do per come completare questa sfida Della rampicata Anche perché, vi ripeto La sfida è un bel po' buggata Quindi ad alcuni la potrebbe contare A me non la conta Ragazzi, vabbè Io vi ho detto tutto Se vi va lasciate un bel pollicione in su E iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Noi ci becchiamo un prossimo video tutorial Quindi a vostro mano di quartiere Come assoluto è tutto Ci becchiamo alla prossima Bella